Siamo alle Solit, dopo un anno abbiamo richiamato Rossini TV per aiutarci a rendere il comune cosciente della serietà del problema che corriamo tutti i giorni qui in via Melitignoto. Il problema degli ipocastani selvatici che non sono curati, molti sono anche malati, quindi con rischio anche che caschino, che si rompano dei pezzi di rami grossi, andando a fare male alle persone che percorrono questa strada tutti i giorni e a fare danni alle auto e alle abitazioni. Sono vent'anni che andiamo dietro a chiedere al comune che prenda provvedimenti, non chiediamo assolutamente di fare uno sterminio di alberi, ma chiediamo la semplice sostituzione graduale con alberi meno invasivi, perché le radici dell'ipocastano vanno in largo invece che in profondità e rovinano anche le abitazioni. Sfortunatamente, venerdì scorso, è successo che dietro di me, in questo pezzo di strada, un signore che procedeva con la moto lentamente perché ho assistito a tutta la scena, ha preso con la ruota davanti un riccio grosso come una pallina da tennis, ha perso il controllo della moto, è caduto, l'hanno portato via in ambulanza con la spalla andata. Quindi noi abitanti della via siamo stufi e continuiamo a chiedere al comune da oltre 20 anni di sopperire a questo problema. Basterebbe la sostituzione graduale delle piante che non sono curate assolutamente come dovrebbero essere curate. Le problematiche sono l'otturazione delle grondaie e delle case, perché gli alberi superano i 15-20 metri di altezza, quindi ricci e le castagne cascano nelle grondaie, andando a turare tutto. O turano le foglie e tutto quello che cade dagli alberi, i tombini di scarico del comune, quindi quando qui fa la pioggia diventa un lago. Le radici rompono le recinzioni delle abitazioni fino ad arrivare ai muri. La pece si appiccica sotto le scarpe, si appiccica agli animali domestici. In più, chi passa qui a piedi con un bambino, con una carrozzina o semplicemente per fare due passi rischia che ogni volta gli casca in testa una pallina da tennis, un riccio grosso come una pallina da tennis e non si può andare avanti così. Noi abbiamo anni fa chiesto un risarcimento danni all'assicurazione del comune che ci ha risposto, noi non vi paghiamo perché il comune non cura le piante come devono essere curate e siamo ancora al punto di 20 anni fa, non ne possiamo più. Noi è già dal 2010 che abbiamo fatto una raccolta firme per gli abitanti di questa porzione della via che sono tutti i giorni a combattere con questa problematica, ma non è servita niente. Qui ci sono persone che hanno chiesto al comune di essere ascoltate, ma non è successo niente.